Ok, buongiorno a tutti, riprendiamo a parlare degli angoli associati e anche oggi facciamo qualche esercizio. Io direi di cominciare con un tipo di esercizio che comporta le applicazioni delle relazioni che abbiamo chiamato angoli associati, così ripassiamo anche un po' di geometria. Cominciamo per esempio con questo. Abbiamo un triangolo rettangolo, vediamo se riesco a disegnarlo più o meno decentemente. Ok, qui l'angolo retto è questo, l'angolo in alto si chiama alfa, l'altro angolo beta e il testo dice, sapendo che il coseno dell'angolo alfa vale tre quarti, quindi non è un angolo notevole ma non importa, determina quanto vale il seno dell'angolo beta. Questo è l'esercizio 258 a pagina 578. Beh, qui la cosa è abbastanza semplice perché la somma degli angoli interni, questo chiamiamolo gamma, degli angoli interni di un triangolo rettangolo, di un triangolo qualsiasi, gamma più alfa più beta, vale pi greco o 180 gradi. Ok, quindi essendo gamma di pi greco mezzi, perché è retto, le consegui che alfa e beta sono complementari. La loro somma è l'angolo retto. Di conseguenza beta vale pi greco mezzi meno alfa, quindi alfa e beta essendo complementari si scambiano seno e coseno, quindi il seno di pi greco mezzi meno alfa vale quanto il coseno di alfa e viceversa. Il coseno di pi greco mezzi meno alfa vale quanto il seno di alfa. Quindi se abbiamo che il coseno di alfa e tre quarti, il seno di beta, il seno del nostro beta, che abbiamo visto è pi greco mezzi meno alfa, vale quanto il coseno di alfa e quindi tre quarti. Nessun problema. Se ci avessero chiesto per esempio, aggiungiamo questa domanda, l'esercizio di suo non la fa, ma l'aggiungo io, supponiamo che ci avessero chiesto anziché il seno di beta, il coseno di beta. In questo caso appunto il coseno di beta vale il seno di alfa, ma il seno di alfa non lo abbiamo, però avendo il coseno e dato che alfa è un angolo acuto, è stato attrazzare il pi greco mezzi, allora il seno di alfa lo possiamo esprimere usando la relazione fondamentale della goniometria come più radice quadrata di uno meno il coseno al quadrato di alfa. Quindi nel nostro caso il seno di alfa vale radice di uno meno il coseno e tre quarti, quindi nove sedicesimi, quindi la radice di 16 meno 9 sedicesimi, e quindi 7 su 16, quindi radice di 7 su 4, per cui il coseno di beta ha questo valore, eh, 17 su 4, e così via. Ok? Tutto chiaro? Beh, qui insomma abbiamo usato semplicemente il fatto che i nostri due angoli interni, gli angoli acuti di un triangolo rettangolo, sono ovviamente complementari, e quindi, mi fermo ancora un attimo qui, così che potete vedere meglio, e quindi il loro valore di seno e coseno si scambiano. Proviamo ancora un altro esercizio dello stesso tipo, ok, questo è chiuso qui, proviamo questo, abbiamo sempre un triangolo rettangolo, questo è un altro esercizio, il 272, vediamo se riesco a disegnarlo bene, ecco, qui questo angolo è retto, questo angolo lo chiamano alfa, questo angolo è beta, e invece stavolta gamma è l'angolo esterno a beta, questo è gamma, e ci dicono, sapendo che il coseno di alfa vale 4 noni, determina il seno di gamma, la gamma è l'angolo esterno a beta, quindi, l'angolo esterno a beta, questo significa che, come potete vedere dalla figura, fatemi fare le evidenze in verde, tutto questo angolo è un angolo piatto, quindi vale pi greco radiante, quindi beta più gamma vale pi greco, per cui beta e gamma sono supplementari, quindi gamma posso prenderlo come pi greco meno beta, ok? Inoltre, abbiamo appena visto che alfa e beta sono complementari, cioè la loro somma dall'angolo retto, per cui beta vale pi greco mezzi meno alfa, mettiamo insieme queste due relazioni, per legare gamma ed alfa, e abbiamo che gamma che vale pi greco meno beta, vale quindi pi greco meno beta, che è pi greco mezzi meno alfa, e quindi ho pi greco meno pi greco mezzi più alfa, meno e meno fa più, per cui pi greco meno pi greco mezzi fa pi greco mezzi, e quindi gamma è l'angolo retto più l'angolo alfa, quindi determinare il seno di gamma significa calcolare il seno di pi greco mezzi più alfa. Ricordate, andiamo a vedere il cerchio goniometrico, se questo angolo è alfa, pi greco mezzi più alfa, significa prendere questo segmento e ruotarlo di 90 gradi, e otteniamo questo angolo, e questo è pi greco mezzi più alfa, e il suo seno è, il seno di quest'angolo è l'ordinata di questo punto, questo segmento qui, che misura quanto il coseno di alfa, per cui possiamo dire che questa coppia di angoli associati, gli angoli che differiscono dell'angolo retto, cioè alfa e pi greco mezzi più alfa, hanno sì che il seno di pi greco mezzi più alfa, vale quanto il coseno di alfa. Di conseguenza, dato che ci dicono che il coseno di alfa vale 4 noni, significa che anche se in gamma vale 4 noni. ok, ci sono domande? Molto bene, facciamo anche il successivo, che è il 273, e questa volta abbiamo un trapezio rettangolo. Eccolo qui. Bene, questi due angoli sono retti, questo angolo misura alfa, attenzione, è un angolo ottuso, questo angolo misura beta, e il testo ci dice il seno di alfa vale 9 decimi, ok, calcola il coseno di beta. Allora, qui nel trapezio abbiamo il, vediamogli un nome, qui abbiamo A, B, C e D, il trapezio è un quadrilatero in cui due lati, di A in questo caso, e B, C, sono paralleli. Le due, che chiamiamo basi, la base minore e la base maggiore, sono paralleli. Dato che D, A, diciamo anche prolungarlo, la retta che passa per D, A, e la retta che passa per B, C, sono rette parallele, ok, mentre A, B, è la trasversale e dai criteri di parallelismo parallelismo tra rette abbiamo che l'angolo alfa e l'angolo beta che sono angoli coniugati interni, stanno dal stesso lato della trasversale e all'interno della fascia dei due parallele, sono supplementari, cioè alfa più beta ci dà l'angolo piatto. di conseguenza beta possiamo esprimere come pi greco meno alfa e quindi calcolare cosen beta significa calcolare il coseno di pi greco meno alfa e angoli associati alla mano quindi andiamo a considerare il cerco goniometrico alfa e pi greco meno alfa individuano due punti che sono simmetrici rispetto all'asse di ordinate questo è alfa e in verdi fatemi disegnare il punto individuato da pi greco meno alfa questi due punti hanno la stessa ordinata ma hanno ascisse opposte quindi il coseno di pi greco meno alfa vale meno il coseno di alfa ok invece viceversa il seno mettiamo anche quella il seno di pi greco meno alfa giusto per ripassarlo vale più seno alfa qui ci chiedono di calcolare il coseno di beta e ci danno il valore del seno di alfa ok quindi questa relazione che collega il coseno di beta al coseno di alfa va completata calcolando il il coseno di alfa perché abbiamo solo il seno però attenzione dalla nostra figura emerge il fatto che il fatemi evidenziare in blu ecco l'angolo alfa è maggiore di pi greco mezzi ok è più piccolo dell'angolo piatto ma è maggiore dell'angolo retta quindi l'angolo alfa si trova nel secondo quadrante siccome alfa è maggiore di pi greco mezzi e minore di pi greco alfa appartiene al secondo quadrante dove il seno è positivo ma il coseno è negativo ok quindi per calcolare il coseno di alfa usando la prima relazione fondamentale quindi da qui abbiamo che il coseno di alfa vale meno la radice quadrata di uno meno se inquadro alfa perché si tratta di un angolo ottuso di un angolo che si trova nel secondo quadrante un angolo maggiore dell'angolo retto minore di quello piatto maggiore di quello retto quindi calcoliamo il coseno di alfa meno la radice di uno meno cos'era il valore nove decimi alla seconda quindi abbiamo meno la radice di uno meno 81 centesimi cioè meno la radice di cento meno 81 che fa 19 di meno radice di 19 centesimi per cui ho meno radice di 19 su 10 e quindi questo sarà il valore che utilizziamo nella relazione degli angoli associati eccola qui per cui abbiamo quindi due due mini fatemi riscrivere qua sotto il coseno di beta cioè il coseno di pi greco meno alfa che vale meno il coseno di alfa vale quindi meno meno radice di 19 di 19 per cui vale più la radice di 19 decime ok quindi e questo il segno è coerente perché il segno più ok perché osservate che dalla figura abbiamo che l'angolo beta ok beta questo beta è minore di pi greco mezzo è un angolo acuto e gli angoli acuti hanno coseno positivo e quindi è corretta se non avessimo tenuto conto di questo meno avremmo ottenuto un angolo qui negativo ok che sarebbe stato scorretto perché il coseno di beta essendo beta un angolo acuto non può essere negativo quindi attenzione quando si passa da seno a coseno e viceversa bisogna sempre tenere presente in quale quadrante si trova l'angolo e quindi se è acuto o se è ottuso ok una cosa è importante fare una bella differenza trovare qualche esercizio di questi qui non ne vedo più tutta via ci sono ancora queste ecco proviamo anche questo qui esercizio 309 e abbiamo questo disegno abbiamo due rette parallele se abbiamo questa retta R e questa la retta S R parallele ad S poi c'è un punto su R da qui è tracciata la perpendicolare quindi a entrambe le rette di questo angolo è retta e questo anche attraverso questo punto ci è tracciata poi una seccante la chiamiamola T e la seccante fanno diversi angoli con RT questo viene indicato con la lettera delta quest'angolo con la lettera alfa quest'altro angolo con la lettera beta e questo è gamma e il testo dice sapendo che il seno dell'angolo alfa vale 3 quinti determina i valori di coseno dell'angolo beta tangente dell'angolo gamma e il seno dell'angolo delta ok allora sempre dai criteri di parallelismo abbiamo che allora i due angoli beh qui alfa e delta sono supplementari perché la loro somma fa l'angolo retta quindi qui possiamo subito dire che alfa più delta vale pi greco mezzi mentre dai criteri di parallelismo abbiamo che l'angolo alfa e l'angolo beta sono coniugati interni delle due rette r ed s parallele con la trasversale t quindi alfa e beta sono supplementari quindi ripeto alfa più beta danno l'angolo piatto viceversa l'angolo alfa e l'angolo gamma sono corrispondenti delle due parallele con la trasversale perché sono orientate nello stesso modo rispetto al punto di intersezione della trasversale con le parallele quindi sono congruenti quindi alfa è congruente a gamma ok è equivalentemente alfa più alfa più beta più gamma sono supplementari in ogni caso quindi conoscendo il seno di alfa ok scusate conoscendo il seno di alfa andiamo per esempio a determinare andiamo con ordine la la cosa più semplice è il seno di delta allora il seno di delta dato che alfa più delta da pi greco mezzi significa che delta è complementare ad alfa quindi è pi greco mezzi meno alfa per cui il seno dell'angolo delta cioè il seno di pi greco mezzi meno delta vale quanto il coseno di delta ok che noi però non abbiamo abbiamo il seno il seno di alfa ho scritto male abbiate un attimo di pazienza ho scritto due volte delta invece invece qui andava alfa noi non abbiamo il coseno di alfa ma abbiamo il seno di alfa che vale tre quinti alfa e delta sono entrambi minori di pi greco mezzi positivi e minori di pi greco mezzi sono entrambi acuti quindi hanno il coseno di alfa positivo e il coseno di delta è positivo quindi se ci serve il coseno di alfa avendo il seno nell'inversione della prima relazione fondamentale useremo il segno più coseno alfa vale più radice di 1 meno il quadrato del seno di alfa perché si tratta di un angolo acuto ok quindi scusate il coseno di quest'angolo il coseno di alfa vale più radice quadrata di 1 meno quanto valeva 3 quinti se non ricordo male ha fatto il mio rivedere sì 3 quinti alla seconda quindi vale la radice di 1 meno 9 venticinquesimi quindi la radice di qui c'è 25 25 meno 9 fa 16 quindi 4 quinti per cui possiamo dire che il seno di delta cioè il seno di pi greco mezzi meno alfa vale quanto coseno alfa cioè 4 quinti abbiamo trovato la prima delle risposte poi ci chiede l'esercizio il coseno di beta beta più alfa abbiamo detto sono angoli supplementari quindi la loro somma è pi greco quindi beta vale pi greco meno alfa quindi cercare il coseno di beta significa calcolare il coseno di pi greco meno alfa abbiamo visto prima che due angoli supplementari danno coseni opposti e segni uguali quindi questo è meno il coseno di alfa dall'altro canto come vedete beta è un angolo ottuso che ha un coseno negativo il coseno di alfa l'abbiamo appena calcolato quindi questo vale meno 4 quinti ricordate che il coseno di alfa l'abbiamo appena calcolato e questa dà la seconda risposta vediamo la terza cos'era se non mi ricordo più la tangente di gamma ok allora gamma vale quanto alfa gamma è congruente ad alfa perché sono angoli corrispondenti dirette parallele qua trasversale quindi la tangente di gamma vale quanto la tangente di alfa quindi sen alfa fratto il coseno di alfa allora se non alfa ce lo dà il problema che è tre quinti il coseno di alfa l'abbiamo calcolato prima è quattro quinti quindi la tangente di gamma cioè la tangente di alfa è tre quarti i 2 5 si semplificano rimane tre quarti ok ci sono domande per concludere ma se abbiamo tempo di farne ancora uno io proverei a fare qui torniamo a quelli del vecchio tipo l'esercizio 304 calcoliamo o meglio semplifichiamo la seguente espressione coseno di meno alfa per il seno di 5 mezzi pi greco più alfa più il coseno di 7 mezzi pi greco meno alfa più continuo nella seconda riga più il seno di pi greco mezzi più alfa per la tangente di pi greco più alfa calcolate o semplifichiamo questa espressione quindi qui abbiamo allora molti angoli notevoli sono tutti notevoli allora cominciando dal primo il coseno di meno alfa possiamo esprimere come il coseno di alfa per quale ragione beh andiamo a vedere il cerchio goniometrico se questo angolo individuo ecco questo è l'angolo alfa l'angolo meno alfa è lo stesso angolo ma preso in senso negativo cioè in senso orario quindi è questo qui se il cerchio fosse fatto in modo più decente potremmo vedere bene che il il coseno è identico questi due punti hanno la stessa ascissa ma ordinate opposte quindi dato che il coseno è l'ascissa dei punti sul cerchio goniometrico punti individuati dall'angolo alfa o dal meno alfa hanno la stessa x nel posto di cosen alfa possiamo sostituire coseno alfa coseno alfa è identico a coseno di alfa poi abbiamo il seno di 5 mezzi pi greco più alfa a 5 mezzi possiamo scrivere in questo modo 5 è il doppio di 2 più 1 quindi 4 più 1 questo lo scriviamo come il seno di 4 più 1 mezzi di pi greco più alfa quindi 4 mezzi che fa 2 pi greco più ancora pi greco mezzi più alfa qui c'è scusate ma anche il seno più alfa ma la funzione seno è periodica di periodo pi greco quindi questa parte posso ignorarla perché aggiungere o togliere multipli di 2 pi greco all'angolo non cambia il valore del seno quindi questo è identico al seno di pi greco mezzi più alfa che come abbiamo visto precedentemente vale quanto il coseno di alfa ok qui qual è il trucco bisogna chiedersi quando c'è un multiplo frazionario di pi greco qual è come come conviene esprimere questo rapporto che qual è il rapporto tra 5 e 2 in questo caso qual è il più il più alto multiplo di 2 contenuto nel 5 e questo mi permette di ad esempio tirar fuori dei multipli di valori di periodo o multipli di periodo i quali poi possono essere ignorati grazie alla periodicità della funzione seno e coseno se fosse il coseno quindi questo il seno ai 5 mezzi pi greco più alfa vale quanto coseno alfa poi abbiamo 7 mezzi di pi greco il coseno di 7 mezzi di pi greco meno alfa meno alfa anche qui facciamo lo stesso discorso che qui 7 e conviene esprimerlo come 8 meno 1 secondo me 8 meno 1 mezzi di pi greco meno alfa e quindi 8 mezzi che fa 4 mi dimentico sempre il coseno coseno di 4 pi grechi meno pi greco mezzi ancora meno alfa anche qui il 4 pi greco che è multiplo di il doppio del periodo può essere ignorato perché perché è due volte il periodo e quindi se aggiungo o tolgo la funzione all'angolo multiplo del periodo la funzione assume lo stesso valore quindi questa è identica a il coseno di meno pi greco mezzi meno alfa e qui uso quanto abbiamo visto prima perché posso raccogliere il meno coseno di meno pi greco mezzi più alfa abbiamo visto prima che il coseno dell'angolo del suo opposto sono identici quindi qui posso ignorare il meno quindi questo vale il coseno di pi greco mezzi più alfa ora angoli associati e cerchio goniometrico se questo angolo individuo all'angolo alfa pi greco mezzi più alfa è quello che ottengo ruotando di 90 gradi quindi arrivo in questo punto questo è pi greco mezzi più alfa la cui ascissa cioè questo segmento è opposto all'ordinata di alfa quindi il coseno di pi greco mezzi più alfa che è questo valore è l'opposto dell'ordinata di questo punto che è il seno di alfa quindi questo vale meno il seno di alfa per cui riassumendo il coseno di sette mezzi pi greco meno alfa vale meno sen alfa ok vediamo che cos'altro abbiamo beh sen di pi greco mezzi più alfa l'abbiamo visto prima il seno di pi greco mezzi più alfa vale cosen alfa e infine la tangente di pi greco più alfa la tangente periodica di periodo pi greco quindi togliere o aggiungere periodi non cambia il valore della tangente quindi questo è uguale alla tangente di alfa cioè sen alfa fratto cosen alfa allora la luce di questo fatemi copiare ecco ricopio il testo ok lo mettiamo qua sotto e in base a quanto appena visto abbiamo che qual posto di cosen alfa possiamo scrivere cosen alfa il seno di 5 mezzi pi greco più alfa vale cosen alfa poi il coseno di 7 mezzi pi greco meno alfa vale meno sen alfa e poi abbiamo che il seno di pi greco mezzi più alfa questa parte vale cosen alfa e qui vale la tangente di alfa e quindi sen alfa fratto cosen alfa ecco se operiamo tutte queste sostituzioni l'espressione diventa cosen alfa per questo è un alfa per cosen alfa più poi c'è meno sen alfa per cosen alfa per la tangente di alfa qui ne ho poco spazio quindi qui vale coseno per coseno fa il coseno alla seconda di alfa più per meno fa meno abbiamo sen alfa per cosen alfa per sen alfa fratto cosen alfa i due coseni si possono semplificare quindi ho coseno la seconda di alfa meno sen alla seconda di alfa ok ci manca un pezzo ma non esserci tutto manca il cosen 7 si si ho dimenticato un pezzo scusatemi un secondo allora eccolo qua qua c'è un più c'è un un meno di sette mezzi allora fatemi rivedere ok ok qui in mezzo ci vuole questo termine che era meno sen alfa qui in mezzo c'era un più usate questo non è un per ma è un più quindi abbiamo fatemi correggere solo un secondo avrò meno sen alfa più sen alfa visto che il se questo diventa una somma ovviamente due cose che si semplificano rimane sen alfa sen alfa meno sen alfa si possono semplificare e quindi rimane cos'è un quadro alfa ok e questo completa l'esercizio bene se non ci sono domande ci fermiamo qui